Pausa, cena finita ragazzi Pancino pieno, ci siamo rifocillati e stiamo scendendo proprio a riprendere la diretta del TV Table In questo momento sono tre left al campionato italiano 6 Max 3 left e quindi al TV Table finale troviamo Toninello con 1.230.000 Di Benedetto con 500.000 e Scaccia con 500.000 Quindi seconda e terza position al momento si ritrovano con 12 bui Sulla nostra pagina Facebook trovate il link per seguire tutta la diretta GG Dio alle flyers, Dio alle flyers, sarà fra poco